gentili telespettatori buona giornata l'annunziata torna a diciamo ad attaccare giorgia meloni e si reputa scandalizzata da che cosa sarebbe scandalizzata c'è una sorta di festa del quotidiano la repubblica di molinari repubblica delle idee ma più che idee si potrebbe parlare dell'odio ecco la repubblica dell'odio più più che delle idee perché naturalmente in questa manifestazione si parla solo contro il governo quindi al posto che celebrare loro le loro idee eccetera eccetera è una è indirizzata tutta contro il governo questo la dice tutta così dice che nel bel mezzo dell'accelerazione della storia la destra rappresenta il passato mentre sono in corso le trasformazioni digitali e climatiche il corso della storia va contro la destra e a imporsi saranno le nuove idee ogni volta che la storia accelera è spietata perché sconfigge lascia i margini chi vuole vivere nel passato allora loro se voi vedete che da queste parole che per loro è la destra rappresenta comunque il totalitarismo la dittatura rappresenta il vecchio che ritorna che deve essere sconfitto dalla sinistra quindi nella loro idea è che la democrazia è sinonimo di sinistra mentre le destre ogni tanto saltano fuori cercano di tornare in auge e devono essere sconfitte dalle forze del bene che sono la sinistra che poi è la democrazia quindi hanno una visione sfalsata per loro non c'è i conservatori e la sinistra per loro c'è la sinistra che è il giusto e la destra che deve essere rigettata indietro perché rappresenta il ritorno delle dittature quindi è una visione non bipolare del bipolarismo non è una visione che vede il bipolarismo in politica c'è chi ha queste idee c'è chi ha queste altre idee ecco per loro le idee giuste sono a sinistra a destra c'è solo totalitarismo dittature e per questo che loro dicono che la storia va avanti ma la destra rappresenta il passato quello totalitario mentre c'è un mondo che si trasforma il clima il digitale ritorna galla questa destra che ancora non è stata riuscita a essere sconfitta dalla storia e dal bene che combatte il male il bene la sinistra e la destra il male avete capito qual è l'idea della sinistra e l'idea anche di questa manifestazione della repubblica delle idee che sembra tanto la repubblica dell'odio è quello di far passare il concetto che c'è un bene che combatte il male che sta tornando ma che non dovrebbe tornare perché il mondo si sta evolvendo insomma le dichiarazioni di intenti è chiara quella che vi ho appena detto poi arriva lucia annunziata che dopo essere andata via dalla rai perché la sinistra non aveva più potere in rai e quindi è scappata gambe levate si attacca il governo meloni dice la democrazia ma poi avete capito il perché lucia annunziata se n'è andata se n'è andata perché entrerà in politica con il pd alle europee del 2024 quindi oggi attacca la meloni perché sta già facendo politica avete capito e così l'annunziata dice la democrazia è fatta di pesi e di contrappesi di istituzioni che difendono anche i cittadini dallo stato la trasformazione di questo paese è istituzionalmente permessa e fino a che punto perché dovrei essere a favore del ridimensionamento della corte dei conti io sono scandalizzata dal fatto che la premier nello stesso mese ha proposto il premierato la riforma della rai perché quello che si punta è fare l'istituto luce di un premier eletto in modo diretto quindi la rai che diventi l'istituto luce di un premier acclamato dal popolo il popolo radunato sotto il balcone di palazzo venezia che grida il nome meloni meloni e così lei verrà in maniera così acclamata dalla folla verrà rieletta presidente del consiglio per acclamazione come si può eleggere anche il papa per acclamazione non solo nel conclave ma il pontefice può essere eletto anche per acclamazione della piazza pensate un po e così la l'annunziata dice la meloni sta costruendo l'istituto luce che sarebbe la rai per poi acclamarla sotto il balcone questo governo vuole riscrivere i rapporti sociali a favore della propria base elettorale riscrivendo la relazione tra differenti basi sociali e questa è una cosa molto pericolosa nulla da aggiungere e ovviamente non c'è nulla da aggiungere alle sciocchezze non c'è nulla da aggiungere perché detta la sciocchezza cambi discorso perché una discussione su quella è ridicola pertanto ok la rai sta diventando l'istituto luce al servizio del premier acclamato rieletto per acclamazione ecco una sorta di riedizione del ventennio in salsa moderna sono tornati ecco bene naturalmente la sinistra continua come vedete a puntare su sui nostalgici è tutto lì sui nostalgici 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 e loro sono gli antifa gli antifa gli antifa che difendono la democrazia come fa il 20 per cento degli italiani un italiano su cinque a votare persone che continuano a ripetere come degli automi sempre la stessa identica cosa non può essere un'alternativa di governo chi ripete ogni giorno in maniera ridicola questa roba dei fascisti confrontatevi sui temi confrontatevi sulle proposte ma lasciate perdere l'istituto luce queste cose qua ormai sono state consegnate alla storia e non torneranno mai più con buona pace di murgia saviano schline annunziata fazio e tutti gli altri non torneranno mai più quei tempi mettetevelo bene nella zucca cominciate a guardare chi è ellis line le cose che dice come le dice fatevi una risata e cercate un altro capo politico grazie a tutti e buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti arrivederci a tutti e grazie